Buonasera a tutti e benvenuti. Il mondo non è finito, pare ci siamo tutti, diamo un piccolo controllo e quindi possiamo riprendere la nostra trasmissione parlando questa sera di Marò ancora una volta ma anche soprattutto di quella che è stata la perizia balistica depositata recentemente al tribunale arbitrale di Hamburgo dove l'India e l'Italia si stanno disputando le proprie ragioni in tema di innocenza o colpevolezza dei nostri fanti di Marina, Girone e Latore. Tantissime problematiche evidenziate anche dalle forze armate, sui propri siti informativi ma proprio in relazione alla validità di questa perizia balistica che è stata depositata dall'India a nome di un professore di medicina legale, tale Sassicala, professore di una cittadina indiana lunghissima che si chiama Tiruvanan Tapuram, sempre nello stato del Kerala. Secondo questa perizia balistica effettuata dopo l'autopsia sul corpo di un pescatore Valentine Gelestine si è ricavato e descritta la consistenza di un proiettile che pare sarebbe di consistenza molto più grossa rispetto alle dimensioni delle pallottole calibro 5,56 in dotazione ai nostri Marò. Questo atto è stato, ripeto, depositato ed è stato depositato recentemente dopo che per circa tre anni e sette mesi di inutile trattative e senza l'attivazione di alcuna procedura giudiziaria si pervenisse ad una risposta, risposta che dovrà dare il Tribunale di Hamburgo che avrà sicuramente modo di fare tutti gli accertamenti per i tali per valutare o meno i rispettivi e contrastanti interessi di queste nazioni. Dicevo quindi che dal corpo di questo pescatore sarebbe stato estratto un proiettile lungo 3,1 cm con una circonferenza di 2 cm e anche su questo si sono scandalizzati i periti balistici mondiali dove dicono in realtà non si misura la circonferenza quanto il diametro e con un'estremità, una lunghezza, ecco io lo dico in termini molto profani di 2,4 cm sopra la base mentre le ogive dei nostri Maroc sarebbero di 2,3 cm stiamo parlando di un modello Beretta arma in dotazione in Maroc con un proiettile leggermente più piccolo rispetto al proiettile ritrovato che sarebbe invece di calibro 7,62 che è un calibro molto noto perché ad esempio la K-47 il fucile d'assalto militare russo fucile molto diffuso nell'area e nel mondo è proprio di questo porta a proiettili proprio di questo calibro proiettili quindi calibro dei proiettili ed armi che vengono spesso usate anche dai pirati somali ma anche dalla guardia costiera dello Sri Lanka che da anni ha contrastato gli sconfinamenti nelle sue acque territoriali dei pescatori indiani un po' come fanno i libici con noi senza sparare magari sui pescatori sui peschereggi di Mazzara del Vallo o d'altro che incappano in acque territoriali più o meno non condiviso ma non condivise dal punto di vista della legittimità e quindi tutto parebbe così forse portare ad una piega positiva eppure il medico legale al termine della propria perizia concluderebbe i proiettili in questo caso potrebbero comunque essere pallottole ad alta velocità sparati da fucili calibro 5,56 e sparati quindi da lontano ma se il calibro è maggiore l'alta velocità, la distanza forse centra qualche cosa ed ancora questi proiettili che sarebbero stati estratti dal corpo delle vittime sono proiettili estratti a seguito di un accertamento al quale non hanno mai potuto partecipare gli osservatori italiani che hanno soltanto assistito alle prove di sparo con i fucili sequestrati sulla nave della cosiddetta nave Erika Lexi e anche qui vi è disquisizione sull'aver avuto accesso sul fatto se questi proiettili siano stati o meno estratti dal corpo e insomma l'accertamento balistico è stato effettuato senza tutte le garanzie di certezza della prova nessuno ha pensato di utilizzare un microscopio nessuno ha pensato di comparare da quale arma così potesse essere stato esploso il colpo magari attraverso le rigature e le testimonianze e fotocopie dei vari personaggi che hanno assistito all'evento vi è ancora molto mistero vi è ancora molta incertezza speriamo forse che questo dato oggettivo come una perizia balistica seppure da verificare dopo in contraddittoria possa portare ancora un passo in più verso la liberazione dei nostri fanti di Marina grazie 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 grazie